Senti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Giovanni, siamo tornati in uno dei nuovi posti preferiti perché lì ci sono i pesci E' pieno di pesci, guardate Avete visto come nuotano? Beh io ho un po' di pane Ok ragazzi, voi non lo sapete, ma in questi posti è stato avvistato un ognomo? Infatti, è stato avvistato un ognomo? Aspetta, ah si mi ricordo, l'ognomo, ah si l'ognomo Tombaldo L'ognomo Tombaldo è una leggenda che spopola da tutte queste parti Si tratta della leggenda che popola le fiabe medie e vali Cioè, che tanto tempo fa un cavaliere stava avvarciando su questi posti del flume, come potete vedere E poi all'improvviso trova l'ognomo Così l'ognomo lo ridu in piccoli pezzi E poi lo mangiò E da allora ci sono state molte riprese di cattura per ucciderlo, ma non ce la fecero Si scoprì che l'unico modo era catturarli con la rete e farli esplodere di caramelle Così, così, gli ignomi, gli ignomi non vengono più in questi boschi Ma se lo facessero conquisterebbero il mondo intero Quindi iscrivetevi, attivatevi la campanellina e poi ciao Spero che vi sia piaciuto il mio video E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti